Essere belli significa soprattutto essere se stessi. La bellezza è una convergenza di fattori, come stima, sicurezza, presenza e, perché no, anche vivacità. Una persona è attraente perché si sente attraente. Per essere belli fuori, si sa, bisogna essere belli dentro. E lo si può fare adottando uno stile di vita che ci consente di cambiare delle abitudini e quindi eliminando stress. Per esempio, circondatevi di persone positive, divertitevi, ridete. La risata, infatti, ha un potere incredibile sul nostro stato psicofisico. E abbiate cura anche del vostro corpo, magari praticando attività fisica, ma anche un hobby che vi rende felici. Immaginate di lasciar scorrere tutte le emozioni e i pensieri negativi. Immaginate di creare davanti a voi uno scudo che vi protegge e fa rimbalzare via tutte le negatività. Cercate di rimanere neutrali e distaccati da tutte quelle situazioni che possono crearvi stress. Per esempio, se nel vostro ambiente di lavoro ci sono persone negative o che magari creano tensioni, allontanatevi, cercate di non farvi coinvolgere emotivamente. Vestitevi con degli abiti che vi danno sicurezza, che vi stanno bene addosso. Non c'è niente di peggio che uscire con degli abiti che non vi danno confort. Coccolatevi, fatevi dei massaggi, ascoltate un po' di buona musica. Insomma, rilassatevi, prendete un po' di tempo per voi stessi. Ogni sera, magari, prima di andare a letto, guardatevi nello specchio e cercate di individuare tutti quei segni di negatività e di stress che si sono presentati durante la giornata. E immaginate di scaricare tutte queste sensazioni negative e sentite dentro di voi quel senso di leggerezza. Vedete, il segreto della bellezza è dentro ognuno di noi. E con questo direi che per oggi è tutto. Se ti è piaciuto il video, metti un bel like, condividi il video con i tuoi amici e noi ci vediamo il prossimo episodio. See you soon. Ciao.